Ed eccoci qua ragazzi, un saluto a tutti e finalmente torno commentando una vittoria, torno a commentare una vittoria della Fiorentina che non accadeva da un bel po' di tempo. Ragazzi, un saluto a tutti, se ancora non lo avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella per restare aggiornato ogni qualvolta pubblico un video. Che dire ragazzi, questa è una Fiorentina straordinaria, quella vista stasera è una Fiorentina meravigliosa, una Fiorentina che ti fa riconciliare con la voglia di continuare a sperare in qualcosa di importante. L'Atalanta oggi è scesa in campo fondamentalmente con la convinzione di batterci, con la convinzione di essere, e lo è, sulla carta superiore a noi, forte del 3-0 al Maradona di Napoli proprio di qualche giorno fa. Però non ha fatto i conti, Gasperini che oggi era in tribuna, ebbè non ha fatto i conti con una Fiorentina versione veramente bella. Una Fiorentina versione veramente bella, posso dire di avere un rammarico, l'unico grande, perché è un grande, rammarico di questa sera, non aver segnato un gol in più. Perché è vero che, a parte oggi giocavamo in casa e quindi i gol in trasferta non esistono più, i gol che valgono doppio non esistono più. Però, in vista di un ritorno che sarà difficilissimo in un ambiente ostile come quello di Bergamo, tra l'altro ho letto su vari siti alcuni cori discriminatori, prima nei confronti di Commisso, poi nei confronti di Terracciano, insomma, io cerco di non schiararmi mai né da una parte né dall'altra, e cerco di non commentare mai l'extracampo, però sinceramente i tifosi dell'Atalanta, spesso e volentieri, sono abbastanza... Non sono nuovi a questo tipo di cori. Oh, ragazzi, ve lo dico, sono stato un curva anch'io, non siamo dei santi neanche noi, eh, con questo, per l'amor di Dio. Comunque, a parte questo, chiusa parentesi, beh, la Fiorentina oggi ha impegnato seriamente Carnesecchi, man of the match dell'Atalanta indubbiamente, tranne quando ha volato, è stato bellissimo il replay, visto da davanti e da dietro la porta di Carnesecchi che vola, ma Mandragora, nonostante il volo dei Carnesecchi, riesce a fare un gol pazzesco, un euro-goal, non è la prima volta che Rolli ci delizia di queste reti, e quindi grande, 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 Rolando Mandragora, che trova un gol straordinario al filo di palo, e grazie a questo gol usciamo con una vittoria importante che, ripeto, come detto prima, purtroppo poteva essere più rotonda perché abbiamo impenserito molte volte Carnesecchi, aveva fatto un primo tempo perfetto, nel secondo tempo siamo entrati un pochino impauriti, ci è stata fatta subito una bella parata di Terracciano, che tra l'altro comunque è stato anche lui bravo a parare, proprio nel 49esimo, sugli sviluppi di un calcio all'angolo, se non ricordo male, di Copminers, che oggi non ha giocato come solitamente gioca, e c'è stata una grande parata di Terracciano sul tiro di Ien. Detto questo, poi, oggettivamente, l'Atalanta, non pervenuta, con Carnesecchi, ripeto che ha fatto diverse belle parate, con un Gallo Belotti, che l'abbiamo detto nei giorni precedenti, anzi, tra l'altro, se non avete visto ancora i video precedenti, andate a recuperarli, che fa un lavoro sporco, che anche oggi il 6,5 in pagella se lo prende senza problemi, però purtroppo continua a mancare il gol, l'unico gol lo ha segnato nella goleada interna della Fiorentina contro il Frosino, un po' troppo poco, però, o almeno lui si spende per la squadra, a differenza di Nzolà e dei predecessori di Nzolà, che erano, appunto, Piontek. Sì, Piontek, scusate, Jovic, era poi Cabral, sapremmo capito la parte, ma lasciamo fare, è il passato. Niente, non ci ha capito nulla l'Atalanta, perché siamo stati bravissimi noi, e quindi sono veramente molto contento, perché contento da una parte e incavolato dall'altra, perché se questa fosse la Fiorentina di sempre, non staremmo a commentare il decimo posto in classifica e non avremo tutte queste problematiche. Purtroppo si va a corrente alternata, però io, personalmente, stasera mi porto a casa una vittoria importante, che poteva essere più rotonda, però è una vittoria in vista anche di una partita, la partita, con la P maiuscola di domenica sera contro gli acerrimi rivali della Juventus, che ieri invece hanno vinto 2-0 contro la Lazio, grazie ai gol di due grandi ex odiatissimi a Firenze, Federico Chiesa e Dujan Vlaovic. Detto questo, con un risultato bello come questo, possiamo andare sicuramente più carichi a Torino a cercare di rompere le scatole a una squadra come la Juventus, che in campionato fatica come d'altronde noi, però in Coppa si trasforma. Fatemi sapere che cosa le pensate nei commenti qua sotto, e come detto all'inizio video, se ancora non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ciao ciao!